Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano è un video molto molto importante in cui faremo un ragionamento molto ampio vari scenari possibili futuri per il giocatore ma innanzitutto io vi chiedo semplicemente una cosa non vi chiederò più i like, i commenti, io vi chiedo massima condivisione cioè prendete, se volete fare un favore al Gobbo Toscano per farlo crescere visto che tanti commentano in modo positivo sotto i nostri video prendete, cliccate sulla freccetta sotto al video dove c'è scritto condividi e condividetelo con almeno un vostro amico e fate conoscere il Gobbo Toscano a più, quante più persone possibili perché ci serve il vostro aiuto, stiamo crescendo, scusate è caduto tutto stiamo crescendo ma abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto quindi mi raccomando condivisione massima del video allora andiamo subito ad adentrarci in questa situazione un po' spinosa la chiamerei spinosa perché stiamo parlando di Federico Chiesa Federico Chiesa che come sappiamo tutti detto da Massimiliano Allegri in conferenza stampa di ieri qui ha un problema, verrà valutato nelle prossime ore credo domani, il lunedì quindi verrà valutata l'entità dell'infortunio le tempistiche di recupero e di rientro ma Chiesa nonostante sia stato infortunato per tanto tempo la scorsa stagione, due stagioni fa con la Juventus e oggi sembra ritornato quello di una volta fisicamente è precario è troppo fragile è più le volte che è fermo e più le volte che quelle che gioca poi ci sono due tipi di visioni una è quella che sia realmente infortunato l'altra addirittura si va a pensare che non sia infortunato e quindi si va a dire Chiesa se non vuoi stare più alla Juve dillo se vuoi andare te ne vai non fare questi giochetti eccetera 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 ma allora sono due scenari plausibilissimi plausibilissimi tutti e due ce n'è uno un po' più diciamo apparentemente chiaro e un altro un po' più fantasioso ma ad oggi può essere uno come l'altro e se fosse l'opzione due cioè l'infortunio finto credo che a quel punto ci sia di mezzo anche una componente importante la componente caratteriale del ragazzo perché non so se vi ricordate ieri in conferenza stampa Allegri disse una cosa sulle squadre che alcune squadre sono come i cavalli con i paraocchi che quindi non devono vedere l'avversario vicino perché se no si imbizzarriscono e altre invece hanno bisogno di non avere i paraocchi proprio perché la competizione è quello stimolo in più per arrivare alla vetta ecco io porterei questo esempio e credo non sia stato fatto a caso da Massimiliano Allegri perché sulla comunicazione c'è poco da dire a Massimiliano Allegri sia fatto anche su Federico Chiesa perché vi dico questo? perché Chiesa a mio modo di vedere è un cavallo che ha bisogno dei paraocchi perché Chiesa in questo momento non vive una buona competizione con Ildiz Ildiz sì Vlaovic sì vede una buona competizione con tutti perché si caricano i ragazzi alla competizione quindi loro sono i cavalli senza paraocchi Chiesa è il cavallo che deve avere i paraocchi perché dal momento in cui Ildiz è esploso sono successi tutti questi problemi a Chiesa fateci caso e c'è un altro appunto che vi voglio fare se voi guardate non mi ricordo se la scorsa partita o quella in Coppa Italia o due partite fa ora non mi ricordo bene quando esce Ildiz per dare il cambio a Chiesa e nel frattempo mi sembra che entra anche UEA insieme a Chiesa non mi ricordo era un doppio cambio tra i due c'era anche Chiesa e tra i due uscenti c'era anche Ildiz Ildiz viene abbracciato da tutti viene abbracciato da Allegri dal giocatore l'altro giocatore in questo caso faccio un esempio UEA e l'unico che gli dà solo una pacca così è Chiesa perché Chiesa è un po' una prima donna è un po' un bambino che ancora deve crescere e maturare tanto ecco dal punto di vista della personalità Ildiz secondo me è già superiore a Chiesa e quindi questa questa competizione per lui non è sana lui si sente messo in pericolo viene messo in pericolo la sua posizione a suo modo di vedere dall'esplosione di Ildiz ed effettivamente un po' ha ragione perché? perché io non credo che coesisteranno mai a meno che non hai un centrocampo stellare Vlaovic Ildiz e Chiesa sarebbe un tridente troppo offensivo e quindi non solo per quest'anno ma anche nei prossimi anni non credo coesisteranno mai e credo che Chiesa con lo stipendio che prende e quello che prende Ildiz quello che fa Chiesa e quello che fa Ildiz la tenuta visica di uno e dell'altro oggi Chiesa abbia certamente paura di essere scavalcato nelle gerarchie da Ildiz perché? perché con quello stipendio e con le pretese e con sempre tutto il polverone attirato su Chiesa anche nel movimento in un certo periodo con Vlaovic contro Allegri dice sì ma te che voce hai oggi in capitolo per dire basta Allegri cioè sei quello che gioca meno di tutti sei uno di quelli che guadagna di più e ti lamenti anche ecco quindi capisco anche quell'altra visione poi per carità sappiamo benissimo che quando non ci stai con la testa l'infortunio è dietro l'angolo quindi rischi di forzare il muscolo rischi di mettere male il piede quando non c'è la testa anche il fisico di conseguenza va via quindi io credo sia un mix credo che gli infortuni ci siano ma siano ovviamente portati tanto da una condizione mentale che in questo momento non è delle migliori ecco che la Juventus si trova a fare un ragionamento molto importante Chiesa sì o Chiesa no cosa ce ne facciamo di Chiesa? Chiesa sicuramente ha un buon mercato ma dobbiamo assolutamente prima rinnovarlo altrimenti o lo vendi oggi che ha un anno e mezzo di contratto o la prossima estate entro la prossima estate lo devi rinnovare perché se ti va un anno di scadenza rischia di fare la fine di Polo Di Bala di dire sì è in arrivo il rinnovo è in arrivo è a settimane è già tutto fatto e poi non arriva niente e poi ti vedi il ragazzo andare via a zero ecco ora indipendentemente da tutto mentalmente fragile fragile fisicamente Chiesa non è un giocatore che possiamo permetterci di mandare via a zero dopo l'investimento fatto qualche anno fa stesso discorso per Vlaovic ma Vlaovic almeno un anno in più di contratto ecco che quindi dovremmo trovare spero che la Juventus trovi un accordo con l'entourage e col giocatore per dire bene carta bianca sulla squadra che vuoi puoi andare dove vuoi ma almeno per tra virgolette ringraziamento che ti abbiamo tenuto ti abbiamo rimesso a posto dall'infortunio e quanto ti abbiamo riportato ad essere quello che eri rinnova per poi andartene cioè trova tranquillamente un accordo con le altre società ma prima rinnova con noi perché vogliamo almeno prendere non lo so io non voglio parlare di 60 milioni perché mi sembrano esagerati oggi 60 milioni per un Chiesa anche soprattutto vedendo la tenuta fisica perché anche se sono finti infortuni e all'estero li vedono infortuni quindi è inutile girarci intorno ma 40 milioni mettiamo ecco un conto è 40 milioni un conto è 10 milioni perché c'ha 6 mesi di scadenza di contratto no o 15 milioni perché c'ha un anno di scadenza dal contratto no assolutamente quindi dobbiamo dobbiamo rinnovare non voglio pensare che la Juventus non ci abbia pensato credo sicuramente ci ha pensato e bisognerà vedere il ragazzo però se a questo punto è una persona matura a livello di riconoscenza o meno perché se ti impunti e dici io ero in rinnovo allora la Juventus farebbe bene oggi a prendere e volarlo subito subito prendi quanto ti danno oggi un anno e mezzo di contratto 30 milioni prendi 30 milioni perché se vai avanti lo perdi se vai avanti lo perdi se vai al braccio di ferro col giocatore perdi sempre i procuratori ormai hanno sempre il coltello dalla parte del manico e quindi non bisogna farsi trovare in una situazione così impreparati altri dicono addirittura che c'è un'eventualità che la Juventus non lo voglia vendere per fare alternanza tra Ildiz e Chiesa ora io vi dico subito vi dico anche qual è il giornale che dice questa cosa che secondo me è una grandissima fesseria la gazzetta dello sport allora come si fa a dire che un giocatore come Chiesa fossero due Ildiz puoi fare alternanza a livello di costi un giocatore come Chiesa che gli fa fare la metà delle partite e gli dai 5 milioni l'anno ma stiamo scherzando e poi ci lamentiamo d'Alexandro di quanto lo paghiamo e dice ma per un panchinario lo paghiamo tanto così e Chiesa con 5 milioni sarebbe di poco sotto allo stipendio dei vari Alexandro e i vari che dira c'era una volta i vari Ramsey no non è fattibile secondo me è proprio un metaverso un metaverso assoluto io credo che la situazione migliore sia quella di trovare una quadra con un giocatore d'entourage e poi cederlo perché se questa è la volontà bene se poi dice io voglio andare avanti la Juventus però anche la Juventus stessa a quel punto deve fare un ragionamento perché se vuole andare avanti la Juventus vuol dire gli infortuni sono realmente infortuni e la Juventus deve calcolare dice ma per uno che mi si rompe una partita sì e l'altra no cosa posso offrire a questo giocatore come posso programmare il mio futuro cioè Ken in questo momento rischia di essere un rischio a mandarlo all'Atletico Madrid perché sei con quattro attaccanti di cui uno è più fuori che dentro Vlaovic ogni tanto ha delle ricadute tra l'ombalgia e quant'altro Milik non ha più vent'anni e Hildiz è esploso ora ma santi Dio io lo spero a tutti qua non si faccia nulla ma vista la Moria in attacco dovrebbe fare tutte le partite lui per carità è giovane le può fare non è che non le può fare guardate bene non c'è la Champions League però se uno prende una squalifica perché va in diffida diventa veramente complicata la situazione quindi io vi chiedo veramente un parere su questa vicenda ditemi voi cosa fareste mi raccomando condividete il video che è la cosa più importante vi ringrazio ancora per l'attenzione stasera ci vediamo allora live reaction da Atric Boys alle 20.30 è post partita circa le 23 sul canale Gobbo Toscano e ci vediamo tutti qua per commentare Lecce Juventus ragazzi un saluto dal Gobbo Toscano ancora una buona domenica e fino alla fine Forza Juve Ciao